Il prossimo episodio Il pro-di 8 e 9 giugno, quando andrete a votare per l'elezione del Parlamento giugno per l'elezione di Parlamento sull'apposita scheda, fate una decima sul simbolo della decima fate una ghella le dolomì sul simbolo della Madonna poverina di Dio e scrivete su CateTutti A presto, per cambiare questa Europa che non c'non ne capore per cambiare questa Europa A presto